Senti, stavo pensando, forse dovremmo conservare le scorte in una centrale di polizia, giusto per sicurezza. Io preferirei tenerle d'occhio di persona. Sicuro che non mi stai nascondendo qualcosa? Ah, avevo un visto di lavoro con la Sable, ma è scaduto quando ho preso congelo. Rischio di essere espulso dal paese a ogni minimo controllo, ma io voglio solo finire questa missione e andarmene per sempre. Forse posso aiutarti con le pratiche per l'immigrazione. No, lascia perdere. È stata una mia scelta. E non ho rimpianti. Io dico che dobbiamo fare qualcosa. Sbaglio o nessuno ti ha chiesto un parere? Sì, ok. Ma non mi piace stare qui a ciondolare mentre la polizia ti fa fuori uno o due. Per oggi il turno è finito. L'uomo a terra! Ehi, mi servono a rifarci! Hai bisogno di riposo. L'ho visto! È Spider-Man! Il ragno è qui! Forza, ragazzi! Consegnate gli aiuti umanitari e vi risparmierò qualche legnata! Mi state accimando! Come va? Ciao, MJ. Mi serve un favorone. Di che si tratta? Ricordi l'articolo che hai scritto sulla carenza di insegnanti in città? Conosco un tipo che sarebbe perfetto... ...se solo avesse visto. Alcuni sovrintendenti offrono permessi in base alle credenziali. Mandami dati e faccio un giro le telefonate. L'ho visto? Massima cautela! Andiamo come vostri! Ce ne sono ancora! Non potete limitarvi al racket come veri gentiluocchi! All fit! Non ci volevo! Instanda cimato! Ragazzi, basta chiamare rinforzi! Auguria di prendervi a calcio in faccia, mi fanno male i piedi! Ti insegno e rispetto! Come si riesce? Prendi! Non mi arredo! Non mi arredo! Preso! Non possiamo fare una pausa per caricare i gadget e ricucire i costumi? No! Mi faccio afferciare! Vieni su e combatti! Accidenti! Ricompliremo i pugni! Ricompliremo i pugni! Ricompliremo i pugni! Ricompliremo i pugni! Ragazzi siete arrivati tardi alla pesta Abbiamo già rotto la pignata e tutto il resto Un'altra parte Non c'è male! Guarda il segnale! Arriva! Il capo ti saluta! Guardateci! Fatto e fatto. Ok, dove sono le scorte per David? Eccoli. Ciao, David. Le ultime scorte sono al sicuro. Ti ringrazio molto. Porto subito tutto all'ambasciata Simcariana e organizzo la spedizione. Fammi sapere se c'è altro che posso fare per te. D'accordo. E grazie ancora, Spider-Man. Direi che è fatta. Spero che MJ trovi il modo di aiutarlo. Ciao. 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 Ciao.